Noi siamo qui a fare il nostro dovere di sindaco, quello che era, quello che è nelle nostre possibilità, lo stiamo facendo, ci sono i nostri vigili urbani dalle ore 16 qui che in maniera professionale prendendosi l'acqua addosso hanno reso meno drammatica la situazione e quindi per quanto ci riguarda noi la nostra responsabilità la mettiamo a disposizione del territorio come abbiamo sempre fatto. Non bastano proprio per la tragicità i panicelli caldi delle giostre delle competenze, qui bisogna assumere un atteggiamento risolutivo e secondo me, a mio avviso, bisogna trasferire urgentemente la competenza di queste viabilità principali e quindi all'unico ente istituzionalmente deputato per la gestione delle strade in Italia che è l'ANAS. La soluzione è qui, questa è l'unica soluzione possibile perché non ci sono valletti di competenze come quelli che si stanno mettendo in campo con trasferimenti provvisori di strade, di gestione eccetera eccetera. Bisogna far gestire a chi è competente con un trasferimento urgente diciamo anche in termini abbreviati della gestione della tratta della cilentana di competenza provinciale e di competenza provinciale e del suo sbocca a mare che è l'Amingardino. Questo consentirebbe una gestione unitaria senza accavallamenti di competenze, scarica barile eccetera eccetera e consentirebbe soprattutto di fare interventi seri non come quelli delle rotonde, delle varie rotonde che sono state fatte in questo territorio senza risolvere i problemi. Non lo possiamo accettare ma soprattutto penso che un territorio che già sta soffrendo, sta soffrendo l'economia in generale, sta soffrendo per la crisi generale non può permettersi il blocco per il raggiungimento di queste bellissime località e soprattutto non possiamo assistere all'inerzia degli enti che si palleggiano sulle responsabilità e adesso senza entrare nella polemica bisogna fare una puntualizzazione perché proprio stamattina dalle pagine di alcuni giornali abbiamo sentito le dichiarazioni fatte del sindaco di Camerota che in un primo momento aveva richiesto così come poi ci sono state fornite dall'assessore provinciale la richiesta da parte del sindaco di Camerota l'attribuzione della competenza di questo tratto stradale e garantendo la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi tutto questo non solo non è avvenuto ma c'è arrivata notizia che il sindaco di Camerota non ha ritenuto di dover sottoscrivere questa delibera provinciale dopo che ne aveva richiesto la competenza ebbene noi non possiamo continuare ad assistere a questo ping pong di responsabilità ma sicuramente non assisteremo e faremo di tutto per convocare sindaci, per convocare amministratori ma soprattutto gli operatori turistici e cittadini che di questa situazione ne stanno pagando le conseguenze noi a tutto questo diciamo basta e da questo momento in poi non riteniamo di non dover più aspettare chi che sia per mettere mano ad una situazione che è veramente vergognosa questo rimbalzo di responsabilità è veramente ridicolo e lo andassero a spiegare ai cittadini e agli operatori del nostro territorio grazie purtroppo è da mesi e mesi e mesi che questo annuso problema purtroppo ha fatto sì che oggi ci ritroviamo con un gravissimo problema per la viabilità e grandissimi problemi per quanto riguarda l'economia locale noi in consiglio comunale avevamo avvertito del pericolo che si correva è da ottobre esattamente che chiediamo al sindaco di intervenire e di creare un tavolo tecnico con i comuni di Centola e di Pisciotta per far sì che questo problema così importante fosse condiviso e per dare manforte al territorio con le intere popolazioni purtroppo questo non è avvenuto oggi avvertiamo e vediamo soltanto uno scaricabarile di responsabilità tra la provincia e il sindaco di Camerota che si è fatto così portare lungo tutti questi mesi in un vicolo cieco e oggi ci ritroviamo che tantissimi turisti decidono di non venire più nelle nostre zone perché non sono disposti a fare un'ora, due ore, tre ore di fila al semaforo oggi il turismo è mordi e fuggi quindi bastano 24-36 ore per cercare di rilassarsi e di venire nelle nostre zone la gente sceglie di non venire più perché chiaramente non è disposta a passare tutto questo tempo qui al semaforo i danni sono incalcolabili per l'economia, chi oggi è venuto sicuramente dopo la tragica giornata di oggi deciderà sicuramente nel prossimo weekend di non tornare la gente è stanca delle chiacchiere, tantissimi commercianti, imprenditori sono alla corda e in questo momento occorre agire con decisione e determinazione per quanto ci riguarda la palizzata che qui abbiamo di fronte del tutto inutile non serve nel caso di caduta di pietre o di rocce sicuramente non sarà un ostacolo per fermare le rocce che cadono dal costone bisognava prendere i provvedimenti già dal mese di novembre cosa che non è stata fatta e quindi il sindaco di Camerota purtroppo dobbiamo constatare che ha deciso con questo atto scellerato di far sì che la nostra popolazione subisca un altro gravissimo danno A 18 mesi dall'insorgere di questo problema molto serio di viabilità sul territorio come Partito Democratico di Camerota chiediamo immediatamente le dimissioni dell'assessore alla viabilità del comune di Camerota per manifesta incapacità a gestire un problema che avrà ricadute gravissime sul territorio e sull'economia dell'intera zona